Il medesimo significato del conosci te stesso. Ho letto che il labirinto di Salomone sarebbe l'immagine dell'intero lavoro dell'opera alchemica. Sarebbe la via da seguire per raggiungere il centro del labirinto dove avviene il combattimento tra l'io e la coscienza. È vero? Commento. È vero se al labirinto si attribuisce il medesimo significato del conosci te stesso.